ciao federica finalmente sei tornata non vedevamo l'ora tu pensa che ci accontentavamo della musica della canzone che hai fatto per fiorello della prima cosa che ho fatto uscire dopo tanto tempo questo nuovo progetto è leggermente più grande intanto come ti senti mi sento molto bene qui a milano c'è brutto tempo però comunque bellissima giornata per me oggi e in generale un bellissimo periodo in cui sono produttiva sto facendo tante cose che mi rendono orgoglioso del mio lavoro quindi mi sento molto molto bene in realtà c'è tanta emozione sicuramente perché poi l'ultimo album risale al 2019 no quindi come mai poi sei tornata dopo questi anni hai aspettato la fine della pandemia devo dire che la pandemia mi ha portato a fare tante riflessioni quindi in realtà da un certo punto di vista si ho aspettato la pandemia nel senso che ho aspettato di stare meglio io ho lavorato molto su di me non solo artisticamente ma soprattutto interiormente e l'ultimo sì l'ultimo ep che ho fatto uscire è stato nel 2019 comunque continuato a far uscire singoli ho fatto una collaborazione con vide con my drama e non mi sono mai fermata diciamo però il progetto che secondo me mi rappresenta di più adesso è quello di come merito singolo e ha un nuovo capito assolutamente sì al di là del cambio di colore dei capelli credo che la musica di un artista vada di pari passo con il cambiamento interiore e la crescita che poi uno acquisisce col tempo è comunque un brano molto riflessivo a parte il sound che quindi può far pensare tutt'altro è comunque un brano molto riflessivo e tratta comunque una tematica una problematica attuale esatto mi questo pezzo l'abbiamo scritto nel 2020 con catu che anche il produttore del pezzo e alessandro la cava è già al tempo comunque di quel tempo perché sembra passato un'eternità mi stava molto a cuore il tema della solitudine perché è una cosa che ho sempre sentito dentro di me da quando sono piccola in realtà anche se in realtà poi non sono stata sola neanche un secondo nella mia vita perché ho sempre avuto la fortuna di avere una famiglia molto legata forse quello che mi mancava di più era la sfera dell'amicizia trovare delle amicizie sincere e parlare di queste cose in un mio pezzo mi dà la possibilità sicuramente di riflettere sulla mia vita e mi piace pensare che le persone che ascoltano poi dei pezzi che hanno delle tematiche importanti a risolvere anche dei problemi interiori ovviamente non prenderà mai il posto di una terapia di chiedere un reale aiuto che è quello che io dico sempre alle persone della mia età di non avere paura di chiedere aiuto quando ci si sente in determinato modo ci sente soli però comunque con la mia esperienza l'ho resa pubblica che poi sei riuscita a superare queste difficoltà quindi anche per dare un consiglio a chi resta assolutamente questa è una cosa che mi sta molto a cuore perché dopo due anni in cui mi sono nascosta realtà anche la me stessa perché non riuscivo ad accettare non riuscivo ad accettare i miei pensieri quindi poi mi sono rivolta ad uno specialista ed è stato chiaro che comunque tutta quella tristezza che provavo e solitudine erano legate ad una depressione che mi portavo indietro da un pochino io ho seguito un percorso e ad oggi posso dirti che che sto bene che riesco a vedere la vita come realmente è sempre grigia o nera purtroppo però questa la terapia è diventato più un privilegio soprattutto in italia perché i costi sono veramente esagerati hanno la possibilità di chiedere aiuto col mio progetto ho voluto anche darò spero più possibile una mano a chi ne ha bisogno e non può e le aiuto certo certo anche perché poi spesso anche se si è in compagnia di gente comunque si ci sente soli perché poi è giusto circondarsi di persone giuste è vero è vero quella è quella una difficoltà non solo delle persone che magari sono più socialmente esposte ma può capitare a chiunque di circondarsi di persone non adatte alla nostra personalità e quella cosa forse fa soffrire fa soffrire molto non dico più dell'essere realmente soli però è brutto essere circondati da tante persone sentirsi realmente soli che è quello che poi accadeva a marylin che è l'ispirazione del mio intero progetto e che sicuramente è una cosa che è capitata a tante altre star che non solo ed è molto triste pensarlo in realtà è vero è vero è vero però appunto tornando al simbolo hai voluto comunque alleggerire questa tematica con un sound bellissimo che richiamo all'estate quindi come mai questa scelta è stata una scelta basata sul fatto che secondo me era ora io non ho mai fatto uscire cose dal sound realmente allegro accattivante forse sì nel 2020 con bullshit però comunque era uscita in inverno era una situazione completamente diversa credo che il contrasto tra il testo molto riflessivo e la produzione a tempo sia una cosa interessante che crea anche dentro di me delle sensazioni contrastanti però secondo me era il momento di far uscire qualcosa anche un po' fuori dalla mia zona di comfort io che sono stata abituata comunque a far uscire spesso pezzi delle ballad un po' più tristi continuerò a fare anche quelle perché sono parte della mia personalità però un artista ha tante tante sfaccettature ed è giusto farle vedere tutte quindi cosa ci dobbiamo aspettare dopo questo singolo? apre questo nuovo capitolo ci sarà un EP, un album, un live, ovviamente la gente non vede l'ora di incontrarla assolutamente è all'inizio di un progetto più grande e più lungo e molto presto darò nuove sorprese diciamo molto presto non posso dirti di tanto altro ma sicuramente quest'estate ci sarà un modo di salire su palchi, di cantare che è la cosa che mi interessa molto in questo momento e mi manca quindi non mi fermo ecco sicuramente non mi fermerò più per lunghi periodi di tempo come è capitato anche perché poi scopriremo qualcosa anche sul tuo profilo Olimpans che è aperto da poco esatto sul mio profilo Olimpans pubblico anteprime, in questo caso pubblicato anteprime di shooting e proprio del pezzo proprio che chiaro ho lanciato uno spoiler qualche giorno fa del pezzo completo e non si sa mai che poi in futuro io continuo a utilizzarlo sui propri scopi artistici, musicali è stato apprezzato molto anche dal mio pubblico, penso che sia una bella opportunità a ricevere comunque in anteprima cose che ti interessano ecco un'altra cosa che volevo aggiungere nel profilo Olimpans è che essendo una piattaforma a pagamento come ti parlavo prima di quanto mi schiacquare l'argomento della salute mentale tutto il ricavato ovviamente lo devolverò in beneficenza per un'associazione che si occupa di salute mentale non mi terrò di nulla ecco perfetto, speriamo che possa essere d'aiuto a chi soffre comunque di queste problematiche e ovviamente cerchiamo di andare oltre quindi di goderci la vita e gustare al meglio tutto quello che viene quindi ti ringrazio Federica grazie mille a te quindi non vediamo l'ora di scoprire nuove cose bentornata sì, non vediamo l'ora che le scopriate ciao va bene, va bene, grazie mille Fede ciao grazie mille a te